Ciao a tutti e bentrovati. Oggi vorrei parlarvi delle descrizioni. Nei nostri romanzi, nei nostri racconti, nelle storie che leggiamo, le descrizioni sono una parte molto importante. Però dobbiamo fare attenzione, perché noi a volte non ce ne rendiamo conto, però le descrizioni, per essere efficaci, devono essere strutturate e inserite all'interno del testo in un modo particolare. E c'è una tecnica anche per questo, c'è l'esperienza anche naturalmente. Allora, la cosa importante è che la descrizione non deve essere fine a se stessa, non deve essere semplicemente lì per farci vedere una cosa, per descriverci un colore o un luogo o una persona. Sì, è vero, hanno anche questo ruolo le descrizioni, però non solo. Se si limitano a questo penalizzano la nostra narrazione, la rallentano, fanno sì che il lettore esca dalla storia e si perde un po' quella magia che lo tiene incollato a noi, alla storia che stiamo creando. Quindi dobbiamo fare attenzione. La descrizione, la descrizione efficace, non ferma mai l'azione, non fa sì che il lettore possa alzare la testa, distrarsi e estranearsi da quello che stiamo raccontando. La descrizione fatta bene porta avanti l'azione, è dinamica, è integrata all'interno del nostro tessuto narrativo. Quindi sta nei dialoghi, nell'azione, nella dinamica. Sì, in passato abbiamo letto, ci siamo appassionati a romanzi con descrizioni statiche molto lunghe, anche molto belle, però è il passato. Oggi la narrativa moderna ha delle regole diverse, vive di una rapidità differente, il lettore vuole un qualche cosa che non è più quello che si scriveva 50-60 anni fa. Quindi noi dobbiamo adeguarci alle nuove esigenze del lettore. Il lettore vuole rapidità, vuole rimanere incollato. La nostra descrizione dovrà essere fatta in questo modo, dovrà integrarsi in tutto il resto e non fermare la narrazione. Quindi, mi raccomando, descrizione mai fine a se stessa, sempre con un'utilità specifica. L'utilità può essere anche quella di creare atmosfera o di mostrarci come è fatto un qualcosa o una persona. Ma fate in modo che sia sempre ben integrata in un flusso narrativo che non distrae il lettore e lo porta via dalla nostra storia.